Non chiamatelo più sorpresa. Kevin Biondi ha una certezza di questo Catania. Il giovane esterno etneo adesso è diventato anche decisivo. Suo è il gol che ha permesso alla squadra di Lucarelli di superare il Rende. Assistito da Di Molfetta, Kevin ha scelto il tempo giusto per attaccare la porta, vincere il duello aereo con Blasè e battere Savelloni. Primo centro in campionato, secondo in maglia rossa azzurra per l'esterno classe 99. Tutti e due i gol sono arrivati di testa, fruttando al Catania due vittorie. Personalità, capacità di giocare in più ruoli, consapevolezza. Queste le chiavi di un percorso iniziato in sordina ma che sta portando Biondi sempre più sotto la luce dei riflettori. I due anni spesi in prestito, prima l'Igia Virtus e poi la CR Messina, lo hanno formato, costruito. Ora Kevin è pronto per il Catania. E se spesso si dice che i giovani vanno lanciati al momento giusto, Biondi ha capovolto il paradigma, contribuendo lui, con i suoi gol, a tirare fuori il Catania da una situazione difficile. Dal vivaio alla prima squadra, ieri Biondi ha realizzato un sogno, segnare nel suo stadio davanti alla sua gente. Per quanto riguarda l'emozione che provo adesso è indescrivibile, anche perché è il mio primo gol in campionato, fatto davanti alla mia gente, quindi vedere la gente felice per una cosa che tu hai fatto, quindi non ha prezzo, diciamo. Lucarelli non ne parla, forse per proteggerlo, ma lui, Kevin, fa parlare il campo e il Catania ora di lui non può proprio fare a meno.